Allora, abbiamo nove aie quest'anno in paese, ringraziamo tantissimo i cittadini di Cerinari gli abitanti, i villeggianti, gli amici dei villeggianti, gli amici degli abitanti, le frazioni, perché la festa delle aie quest'anno sarà chiusa dall'aria gestita dalla frazione di Castello che per chi è frequentatore abituale delle aie sa di che cosa parliamo, cannoli dolci preparati con delle creme specialissime da un pasticcere torinese quindi vi invito a tenere duro e a stare qua fino all'ultima aie perché vale veramente la pena veramente grazie a tutti, vogliamo solo che tutti noi mettiamo in campo tanta cognizione, tanto rispetto per gli altri tanto rispetto per il cibo che è stato preparato dalle aie, quindi se sapete che non mangiate tutto non necessariamente dovete riempire i piatti prendete quello che effettivamente mangiate anche per evitare di consumare questo e soprattutto rimaniamo davvero tutti sobri perché da sobri ci si diverte di più buonissima festa a tutti e grazie ancora per essere così numerosi grazie grazie il mulino di carretto cilano il 928 il 929 Grazie a tutti. 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 a tutti.